Scusi, grazie. Allora, ho già detto per le vie brevi che erroneamente era stata incardinata, tra le interrogazioni invece è chiaramente una mozione, quindi il problema procedurale penso sia stato risolto. L'abbiamo messo in coda alle mozioni e quindi è la mozione che ora tocca discutere. Quali sono i punti di questa mozione? Non la rileggo perché l'ho letta l'altra volta quando l'ho presentata, ma il senso è molto chiaro, non voglio perdere tempo, ma sono due impegni di carattere politico, non ci sono impegni economici, impegni di carattere tecnico che devono essere valutati dalle strutture, sono impegni di carattere politico. Qual è il impegno di carattere politico che sta dentro questa mozione? Siamo di fronte a un elemento che anche nella commissione seconda, nella relazione del dottor Pafundi, è venuto fuori in maniera preponderante. Siamo in presenza di una Basilicata che negli anni non è mai andata fortunatamente, pagando conseguenze in termini di servizio probabilmente, in piano di rientro, ma questo è stato un virtuosismo contabile di bilancio. Il non essere andato in piano di rientro o non essere mai stati commissariati, come le altre regioni del sud e non solo, qualcuno anche del nord, ci ha consentito non solo di fare una battaglia politica importante che ha prodotto un risultato, quale quello del mantenimento del riparto assegnato alla Basilicata, mentre tutte le altre regioni d'Italia ricevevano tagli in funzione, diciamo, laddove esisteva il decremento demografico. uno dei importanti risultati raggiunti dalla passata legislatura nell'ultimo anno è di essere riusciti a difendere 17 milioni di euro di tagli che andavano alle regioni, come la Basilicata, che purtroppo aveva un decremento demografico, essere riusciti ad avere 17 milioni di euro, quindi ad avere il riparto uguale agli anni precedenti. In più la premialità del rispetto del patto ci ha consigliato di avere altri 7 milioni di euro in più, 6 milioni e 7 in più, quindi noi abbiamo, con tutte le difficoltà del mondo della sanità, una esigenza da un punto di vista di risorse economiche di fare tutte le battaglie politiche possibili a livello nazionale per poter difendere il quantum economico a disposizione del nostro comparto, altrimenti le riorganizzazioni, gli efficientamenti, gli investimenti, il miglioramento dell'offerta sanitaria è difficile farlo se non hai la risorsa economica disponibile. Ora che cosa è venuto avanti nel giorno in cui è stata fatta la mozione? Era venuto dalla stampa un dato evidente, potenziale, il tavolo di lavoro costituito dal Ministero della Sanità aveva ricevuto dal MEF una bozza che prevedeva un taglio di 2 miliardi di euro alla sanità, sembrava una, nel mentre Grillo, Ministro, annunciava addirittura incrementi di fondi, quindi una discrasia e una dicotomia enorme tra quello che annunciava il Ministro Grillo e quello che faceva paventare il governo Conte. Dopo qualche settimana la questione è diventata, invece che di sbiluirsi il problema, è diventata più grave, perché nel mentre il Governo nazionale ha dovuto fare la manovra correttiva in Europa per evitare l'infrazione e abbiamo acceduto all'ipotesi di un taglio di 7 miliardi e mezzo di euro dei conti dello Stato. di questi 7,5 miliardi di euro, due sono certamente legati alla sanità. Due miliardi di euro di taglio alla sanità significa per la Basilicata meno 20 milioni di euro, perché il nostro, la nostra percentuale di riparto è di circa l'1%, era 0,97 e oggi, siccome gli altri hanno abbassato e noi abbiamo aumentato, forse è qualcosa in più dell'1%. Quindi ci vogliamo preoccupare che nel mentre cerchiamo di capire come assegnare i budget funzionali, di come evitare le centralizzazioni e migliorare la sanità, noi fra qualche settimana avremo 20 miliardi di meno potenzialmente di fondo da assegnare alla Basilicata e quindi voi avrete 20 milioni di euro da gestire in meno, noi, per la sanità. Allora, la mozione non è che ha bisogno di essere studiata, è molto semplice, dice due cose. Opponiamoci con tutte le forze, quindi diamo mandato al Presidente il Consiglio di opporsi a questo taglio, come è stato fatto nei mesi passati e negli anni passati, riuscendo a rintuzzare il polipotetico taglio. Secondo punto dice, apriamo una discussione, e qua l'assessore ci dice quando è pronto per poter fare un consiglio, io lo auspicavo prima dell'estate, lo vogliamo fare a settembre, non cambia la sostanza, di fare un ragionamento in questa assise su come si vuole immaginare la sanità in Basilicata, visto che giustamente la nuova proposta politica che governa la regione immagino avrà una nuova idea di come vuole gestire la sanità lucana. Questi sono i due punti, che approfondimento dobbiamo fare? Sono due punti evidentemente chiari che hanno un riflesso politico e vogliono impegnare il governo e la giunta ad assumere un atteggiamento chiaro, evidente. Non sono arrabbiato alla pressione apposto Rocco, l'assessore, però, scusi la determinazione e il tono, però la mozione ha una pertinenza, un senso è una tempestività perché di queste cose si sta discutendo il governo nazionale e il tavolo di lavoro è già convocato, non è che deve essere convocato e costituito, è già convocato. Grazie Presidente. Bene, grazie per l'illustrazione.